Con l'arte ci si riappropria degli spazi, quanto è importante questa giornata? Questa è una giornata importantissima per tutta una serie di motivi dal punto di vista urbanistico perché abbiamo recuperato un'area che era abbastanza degradata, si giocava però diciamo che l'abbiamo resa decisamente più accogliente e soprattutto a norma con quelle che sono i dettami di legge. E' importante perché vede coinvolte l'amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e Domus De Luna. Domus De Luna è una realtà importantissima per il nostro territorio, vi opera alla sede, collabora fortemente con l'amministrazione e con la scuola, quindi un bel esempio di unione. Quanto è importante riconsegnare ai giovani le città? E' fondamentale, io sostengo da sempre che gli spazi se sono occupati dai giovani, dalle persone di buona volontà, da chi ha a cuore il rispetto della cosa pubblica, non finiscono nelle mani del degrado e non finiscono nelle mani di personaggi che non vogliono il bene della comunità. E quindi anche questo è un passaggio fondamentale che ci serve per riappropriarci di uno spazio. Questo spazio tra l'altro non sarà utilizzato solo dalla scuola nel periodo scolastico, ma con il dirigente scolastico e Domus De Luna stiamo portando avanti un progetto che veda l'utilizzo dell'ambiente scuola 365 giorni all'anno. Quindi anche nel periodo estivo attraverso progetti che vedono l'inclusione dei nostri giovani utilizzeremo questo spazio. Quindi questo è un aspetto molto importante. E poi ricordiamo chi sta alle mie spalle, il grande Gigi Riva, un mito di passione, rispetto e soprattutto pace.